benvenuto ben ritrovato sul mio canale e benvenuto in questo nuovo video benvenuto sul nuovo lozzi la rubrica dove si parla di vaping senza parlare di vaping in che senso semplicemente si riportano notizie senza far presentazioni recensioni o quant'altro come avete letto dal titolo sta tirando una brutta bruttissima aria il 22 di maggio infatti rischia di diventare per il mondo del vaping una data particolarmente importante è successa infatti una cosa e cito testualmente senza precedenti inaspettata incomprensibile sconcertante questi commenti che sono andati ieri anzi ieri l'altro per la maggiore quando si è venuta a conoscenza di questa cosa ma cosa è successo per chi non lo sapesse ad un importante player di distribuzione hanno sia commercio online insomma che è un distributore di prodotti per lo svapo la guardia di finanza ha sequestrato tutti i liquidi scomposti ripeto tutti i liquidi scomposti in qualsiasi formato li abbia avuti circa 400 litri di liquidi in un magazzino sono stati sequestrati dalla guardia di finanza perché vi starete chiedendo l'accuso dalla guardia di finanza è elusione fiscale molto semplicemente elusione fiscale cosa significa significa cioè che secondo i finanziari il formato scomposto sarebbe stato pensato e immesso sul mercato per raggirare la tassazione ricordiamo che la tassazione prevede la tassazione solamente sui liquidi pronti quelli già pronti per essere svapati gli scomposti invece sono degli aromi nel senso che non possono essere utilizzati tali quali ma vanno leggermente modificati con l'aggiunta di pg vg nicotina quello che meglio uno crede ma attenzione questo aggiramento che onestamente non è che da adesso che è stato fatto e lo sanno anche i sassi che è stato fatto il formato al shot per evitare di pagare miliardi di tasse dopo l'emendamento vicari ma questo evidentemente c'è chi si sveglia la mattina si tocca un orecchio e ne pensa una evidentemente però dicevo questo aggiramento è stato fatto a norma di legge nel senso che è legale farlo infatti se uno legge anche sulla treccani nota in circlopedia che insomma di lingua italiana un pochettino se ne intende l'elusione fiscale è definita come l'aggiramento di una norma tributaria volto a ridurre o eliminare l'onere fiscale in essa sancito mediante elaborate operazioni contrattuali o negoziali predisposti nel rispetto della legge nel rispetto della legge l'evasione fiscale è un'altra cosa ed è un pochettino più grave nel senso che uno non paga le tasse l'elusione ci gira attorno la tassa legalmente l'evasione non le paga è un po' differente ora gli avvocati ovviamente del distributore che è stato colpito si sono messi subito in moto per vedere la liceità di questa di questa vicenda se la guardia di finanza poteva fare quello che ha fatto io mi auguro ovviamente di no anche perché dovesse un tribunale dal ragione alla guardia di finanza vorrebbe dire praticamente la morte di un mercato intero perché comunque andrebbero tolti tutti gli scomposti dagli scaffali di tutti i negozi d'italia quindi capite che la situazione è abbastanza grave alla stessa maniera se il giudice dovesse dar ragione agli avvocati nel frattempo il danno che è stato arrecato a questo distributore chi glielo ripaga punto di domanda comunque tira veramente una bruttissima aria non lo so veramente sono rimasto onestamente sconcertato da quanto è successo tra l'altro fine settimana prossimo sarà di scena a verona il vapita di quindi che sia stata fatta una cosa proprio mirata dove lo leggeria non lo so qualcosa di strano onestamente dietro ce lo vedo non so bene che cosa però insomma di sicuro sarà un ottimo spunto di conversazione sul palco di va peteri dove vengono fatti tutti gli anni dei convegni molto interessanti credo che questo qua caro mosè giacomello e chi organizza potrebbe essere all'ordine del giorno e anche particolarmente interessante come visto che quest'anno all'interno di va peteri ci sarà uno stand di adm sarà curioso sentire anche la loro versione dei fatti quindi insomma diciamo che da una parte va peteri casca proprio a fagiolo vedremo sentiremo cosa hanno da rispondere quelli di adm su questa vicenda che ripeto ha abbastanza grave ed una discreta gravità vabbè quanto vi dovevo riportare ve l'ho riportato la mia piccola riflessione è che le cose sono due o il distributore al quale ha rotto le scatole ha rotto le scatole a qualcuno quindi questa è una mera vendetta ci potrebbe essere qualcos'altro sotto relativo a fatturazioni e via discorrendo questo non lo possiamo sapere non lo so è la mia è semplicemente una ipotesi oppure oppure a voler per zammale potrebbe essere anche il primo passo verso la sempre più probabile tassazione anche degli aromi e un po che questa voce gira all'interno diciamo del comparto del vaping che sia questo il primo passo non lo so ripeto la mia una semplice pura e semplice riflessione a voce alta quindi fatemi sapere la vostra nei commenti per chi ci sarà ci vedremo a vapitali e a sto punto ripeto sono curioso di vedere revolversi della situazione perché ne va di un intero mercato ma non solo di chi anche di chi li produce i liquidi insomma c'è un'intera filiera che sta rischiando veramente grosso capiremo se per i deliri di qualche finanziere oppure se dietro c'è qualcosa di veramente grosso ed importante quanto dovevo dirvi ve l'ho detto ci vediamo alla prossima ciao